Musica Chiede che state vigilante, chiede che vende nell'uccello E i rossi piccerilli, signore paziente, vecchie, creature buone e malamente Nisciul, non si salta nisciul Nisciul, nisciul E la stacetta non si salta nisciul quello che sta robando l'estero, quello che si vende dei navi, quello che si vende dei figli e professori e scarpati, e tuttora i barbieri e i soffi in giocata, i travestiti e mona che viene che i macellare, esciù, cosa salta l'esciù, esciù, 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 e da sta citando cosa salta l'esciù. E i figli del papà, quello che piangono in serie, quello che presta dei sordi con interesse, ma non i batti da due parti, e i vigili, i bustini, i tastisti e i tranvieri, e i signorini e buona famiglia, e i quarti e i carcerati, e i ferroviari, i salvieri, i mariuri e i utari, tutto quanto la stessa pasta, e il giudice deve ricontare, e il giudice deve ricontare, esciù, e i cuore e i giorni, e la straggi darà esciù, e il giudice deve ricontare, esciù, Chiedi che parla in giustizia, chiedi che assalano le mani, chiedi che fanno le fatture, chiedi che non giocarono mai, Chiedi che sonia a quest'administra, chiedi che sono a permetter, e una prima, c'è quando mi amm姐a, chiedi che sono a guardarmi, e un percorrcere che siagrama a plonema, e un percorrcere cheable, e un percorriore che mi chiamano, e dà di quanto mi chiamano, alla città ci vediamo, c'è quando mi chiamano un percorrere Yahweh�zer, E' chiudere E' chiudere E' chiudere E' chiudere E' chiudere E' chiudere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.